Queste sono le salse del hot pot, piccanti, non piccanti, noccioline, sesamo, crema di noccioline, crema di sesamo, peperoncini, fagioli neri, fagioli schiacciati, la soia, tofu, vari ortaggi, cavoli, pickles, aglio, cipollotto, stringonio e coriandolo e ora andiamo a vedere cosa succede. Hot pot, eccolo qua, due parti, una piccante e una non piccante, con ordini vari, carne bovina, originario del Sichuan, si, different veggies, can you show us, this is lotus, and then we have some dumplings, like that, in the spicy sauce, very good. Cervello di maiale, pork brain, cooked in hot pot, spicy sauce, let's see, first time. E' carino vero? Molto buono, buono questo pop pot. Ciao. Che si è? Ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie.